Sono stati definiti i particolari della visita di Papa Francesco a Napoli in programma il 21 giugno. Il Pontefice, che atterrerà alle 9 al Parco Virgiliano, prenderà parte al convegno la Teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo, che si svolgerà nel piazzale antistante la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale in Via Petrarca. Alle 15 ripartirà per Città del Vaticano. Un evento di portata mondiale nel corso del quale il Santo Padre illustrerà anche i contenuti del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune firmato durante il viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti a febbraio scorso. Padre Pino Di Luccio, vicepreside della Facoltà, analizza il tema partendo dalla simbologia del logo. Ha la forma di una goccia del mare, del Mediterraneo, per dire che questo convegno vuole essere come una goccia che però si diffonde e che fa sempre più spazio a questo incontro nel Mediterraneo che è rappresentato dalle due persone che si accolgono da una sponda del Mediterraneo all'altra. L'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzo Esepe, che è anche gran cancelliere della Facoltà, sottolinea l'importanza dell'evento per Napoli. Il Papa ha imparato ad amare i Napoletani da quella visita memorabile che ha fatto, dove in realtà ha toccato tutti gli aspetti della città. Cioè non c'è stato un campo in cui lui non ha voluto capire e dare una parola di incoraggiamento. La dimostrazione qual è? Secondo me quando lui, dopo aver salutato le autorità alla marittima dove c'era l'elicottero che lo dovevo riportare a Roma, mi disse una cosa che mi fece capire tutto. Guarda, sono stanco perché è stata una giornata durissima, ma sono molto contento, molto felice. Grazie a tutti.